Ben trovati le notizie di oggi martedì 17 di settembre. Un cittadino romeno di 35 anni residente in provincia di Ancuna e un cittadino indiano di 41 residente in provincia di Arezzo sono stati denunciati penalmente perché trovati dagli agenti di polizia alla guida della propria auto in evidente stato di abbrezza con un tasso alcolemico addirittura superiore a cinque volte di quello consentito dal codice della strada. Per entrambi il codice prevede l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro oltre alla sospensione della patente da uno a due anni. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Senigallia hanno tratto in arresto in flagranza di reato due cittadini romeni 27 e 19 anni. I due si sono resi responsabili di furto aggravato e di svariata merce all'interno del centro commerciale Ipersimpli per un valore complessivo di circa 250 euro. La merce è stata restituita e i due assicurati alla giustizia. Gli albergatori pensano già a settembre del 2014. Vediamo. La stagione balneare senigalliese si può ormai dichiarare terminata. Gli operatori, visto il bel tempo di settembre, aspettano ancora qualche turista ritardatario ma pensano già ad organizzarsi per il prossimo settembre, quello del 2014. Il grosso della stagione è sicuramente concluso. Ci sono ancora delle belle giornate per cui ci aspettiamo ancora alcune presenze nelle attività che però in termini di fatturato, in termini di numeri, alzeranno ben poco. Fa un bel sperare sul futuro perché anche in questo periodo di settembre credo bisognerà lavorare perché ci sono le possibilità di migliorare in termini di attrattive. Sappiamo bene che in Italia con l'inizio delle scuole pochi sono disponibili a far vacante oltre una certa data. Quindi dobbiamo lavorare su mercati stranieri che invece sono più sensibili. Però bisogna anche preparare un'offerta che sia attraente per loro. Anche il Comune di Senigallia è tra i firmatari del protocollo d'intesa con la Regione Marche per la partecipazione al bando nazionale che verrà presentato al Ministero dei Trasporti per l'assegnazione di finanziamenti destinati alla realizzazione di impianti cittadini di ricerca per i veicoli alimentati ad energia elettrica. A Senigallia torna Pane Nostrum, il servizio. Dal 19 al 22 settembre a Senigallia si rinnova l'appuntamento con Pane Nostrum, Festa internazionale del pane, nei bellissimi spazi del centro storico cittadino tra Piazza del Duca, la Rocca Roveresca e Piazza Manni, un profumato viaggio di quattro giorni che intende riportare il pane alla centralità, anche come fatto culturale comunitario. Pane Nostrum ormai è conosciutissimo, basta dire la parola che quando si dice Pane Nostrum si individua immediatamente Senigallia. Senigallia è diventata l'eccellenza di tutto quello che è la nostra tradizione, ma soprattutto quello che è il nostro turismo. Pane Nostrum conclude la stagione turistica, ma soprattutto riporta tutte le professionalità di questo territorio come eccellenza. Questo rapporto fra agricoltura, panificazione, produzione e commercializzazione crea pertanto questa città, un evento unico, richiestissimo e che sicuramente dava l'usto a questa città e a questa manifestazione. Dal 20 al 29 di settembre a Palazzo del Duca di Senigallia, dalle 17.30 alle 19.30, omaggio avvenito Quadraroli e alla Senigallia dei motori, con una mostra fotografica organizzata dal Comune di Senigallia, assessorato alla cultura, Musinf e Panathon Club. Fotostoria della settimana motoristica senigallese, immagini di gara, campioni e macchine che furono protagonisti a partire dal 1928 al 1956. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per l'edizione di domani.